E' atterrato sullo apista dell'aeroporto militare Pierozzi intorno alle 20 di ieri sera l'aereo militare che ha riportato a casa, seppur solo per due settimane, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone. I due fucilieri di reggimento San Marco hanno rimesso piede in patria dunque dopo 12 mesi di soggiorno forzato in India. I due marò sono stati accolti tra l'altro a Brindisi da uno striscione di bentornato realizzato per loro da parte dei tifosi del Brindisi Calcio. A bordo di un'auto militare poi sono stati trasferiti nella caserma Carlotto dove hanno incontrato il comandante della forza da sbarco della Marina Militare, l'ammiraglio Pasquale Guerra. Un piccolo rinfresco, una stretta di mano e un abbraccio da parte dei colleghi e poi entrambe si sono viati verso casa. Massimiliano Latorre è tornato a Talsano in provincia di Taranto dove ad attendere ci sono stati parenti ed amici e Salvatore Girone invece ha abbracciato i suoi cari a Torre a Mare vicino Bari. Due settimane di soggiorno in Italia dunque come si diceva due settimane che sono costate circa un milione di euro. Una licenza particolare, molto costosa ma i due marò dovranno affrontare adesso un processo in corso in India per la morte dei due pescatori.